Ciao, suonerò due classici del cinema, Schindler's List e Moon River. Dopo aver ascoltato il concerto ieri sera di Danilo Rea che mi ha veramente entusiasmato ed emozionato, dedico questa musica agli amanti della musica del cinema e anche a Danilo Rea che spero un giorno posso anche ascoltarla. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.